Va in archivio anche la settima giornata del campionato di Serie A, che lascia spazio alla sosta per le nazionali. Nel posticipo della domenica la Fiorentina al Franchi ha battuto 2-1 il Milan. Al diavolo di Fonseca non è bastata l'ennesima rete di Pulisic per evitare la seconda sconfitta esterna in campionato. Nelle altre partite della domenica passo falso per Juventus che subisce in casa il primo gol del campionato e perde due punti. La partita con il Cagliari finisce 1-1. Al Dallara 0-0 tra Bologna e Parma, mentre la Lazio vince 2-1 contro l'Empoli e la Roma pareggia 1-1 contro il Monza.